Weekend ricco per l'atletica a Grosseto con il raduno nazionale giovanile e con gli allenamenti dei 59 azzurrini under 20 per tre giornate abbinate alla conferenza nazionale del talento. Grosseto sempre al centro dell'atletica italiana, raduno nazionale negli impianti sportivi dello stadio e del Campo Zauli. Un impianto che agli addetti ai lavori è conosciutissimo, non solo per raduni giovanili ma assoluti, ma anche di meeting importanti. Non voglio dire che si riprende perché in realtà non ci siamo mai fermati, un calendario giovanile molto serrato e l'obiettivo sarà quello di preparare questi giovani per il prossimo anno che li vede in un campionato mondiale sempre molto difficile, ma credo che i nostri ragazzi abbiano voglia di rappresentare i colori azzurri. Quanti sono i ragazzi impegnati in queste giornate? Sì, qua siamo in una sessantina, abbiamo dovuto ridurre un po' il numero, ho sentito voglia di ritrovarci, voglia di lavorare e magari anche di scambiare delle parole che serviranno per dare stimolo ai giovani. Quante sono le speranze azzurre? Ce ne sono tante? Sì, ce ne sono tante, però ripeto, quando c'è l'edizione di un mondiale, confrontarsi col mondo intero è sempre molto molto complicato, però negli anni abbiamo piazzato sempre dei giovani in finale e questo ci dà supporto per lavorare e per convincere loro di rappresentare, ma soprattutto di presentarsi là al 110%. 10%.